Bene, oggi vediamo come stendere la cera su un pavimento di cotto. Allora, prendiamo la cera, la stendiamo un po' sul pavimento. Mi raccomando, fate attenzione a non esagerare. E poi iniziamo a passare la birba con il vapore medio. Stendiamo bene la cera. Quando l'abbiamo passato un po', passiamo al delicato, così andiamo a spalmarla bene su tutto il pavimento. E adesso che la cera si è asciugata, andiamo a lucidarla. Quindi prendiamo un bel panno pulito, mettiamo la birba in delicato e andiamo a passare il pavimento. Grazie a tutti.